Presenti 378, votanti 343, attimo di 35, maggioranza 172, favore di 93, contro di 250, la Camera respinge. Votiamo, se nessuno chiede intervenire, votiamo l'articolo 5, la votazione aperta. Articolo 5. Ci siamo? Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 386, votanti 289, attimo 207, maggioranza 145, favore di 276, contrari di 13, la Camera approva. Siamo ai pareri dell'articolo 6, onorevole relatrice. Agli emendamenti all'articolo 6, il parere contrario. Grazie, Governo. Conforme alla relatrice. Grazie, siamo al 6.2. Onorevole Cozzolino, penso sul 6.2. Sì, annunciamo il ritiro del 6.2. Ah, perfetto, grazie. E quindi anche, ah no, rimangono però gli identici, ah, chiedo scusa. Siamo agli identici 6.3 di vita e 6.17. Gregori, onorevole Nicchi. Grazie, Presidente. L'articolo 6 è il cuore critico di questo provvedimento. Delega al Governo l'adozione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina sull'impresa sociale. Ed è...